Ciao a tutti cari amici e amici essendo lo scorpione, eccoci qui pronti per le vostre previsioni per il mese di settembre 2023, vi ricordo si va di iscrivervi al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra, se volete potete anche lasciarmi un like, un commento, un feedback se lo volete di rispondervi, vi ricordo inoltre che queste sono energie generali quindi non possono valere per tutti, per quello vi invito se volete a optare per i miei consulti privati di carta romanzia, vi lascio qui sotto tutto nel box delle informazioni, benissimo cominciamo a capire le vostre energie generali globali per questo mese di settembre, abbiamo la carta 61 trovare una soluzione, quindi qui se avete dovuto affrontare delle problematiche o delle situazioni sfidanti durante i giorni o le settimane o anche i mesi precedenti non preoccupatevi, non demordete perché qui avete tutti gli strumenti del caso per trovare appunto questa chiave che vi permetterà di trovare una soluzione ai vostri problemi, quindi sicuramente qui le cose andranno per il verso giusto, ci sarà proprio uno sblocco di una situazione, anche se per caso avete vissuto delle situazioni un po' altalenanti, un po' di down, da puntista familiare, relazionale, di collaborazione lavorativa, non preoccupatevi perché troverete le parole giuste per dire la vostra, ok? e tutte queste piccole diciamo litigate o divergenze verranno meno, ok? perché vi farete capire, capirete anche perché no le esigenze delle altre persone e andrete comunque a un dunque, arriverete comunque a un dunque e troverete la soluzione ai vostri problemi, ok? problemi che ripeto possono anche affleggervi da parecchio tempo, poi qui dato che è uscita la carta della chiave qui potrebbe esserci proprio delle dinamiche legate a non so un acquisto di una casa o un affitto o anche la congezione di un mutuo, una surroga, un rogito, tutto quello che ha a che fare con questioni comunque immobiliari o anche questioni prettamente pratiche e materiali della vostra vita, però qua si tratta comunque di energie positive beh, qua abbiamo la carta della nave, quindi sarà un mese di movimento, qua abbiamo una nave quindi perché no alcuni potrebbero andare anche in crociera durante questo mese, potrebbe esserci un viaggio, un trasloco, uno spostamento, qui questa carta, queste due carte vi dicono per trovare una soluzione ai vostri problemi dovete guardare verso una nuova prospettiva dovete guardare altrove, non dovete fossilizzarvi su una persona, su quella persona, su quella dinamica perché lì non troverete la risposta alle domande che cercate, ok? quindi dovete cercare proprio di guardare da una nuova prospettiva, ok? poi qui ripeto potreste prendere un mezzo di trasporto, alcuni potrebbero, non so, per trovare una soluzione dovrete spostarvi, ok? dovrete avvicinarvi verso, non so, un vostro partner oppure una vostra, un vostro membro della famiglia, ok? ci sono varie comunque sfaccettature, però ripeto, la soluzione ai vostri problemi la riuscirete a trovare solo cambiando punto di vista questo è un messaggio importante abbiamo poi la carta dell'otto di spade cioè qua è un mese sicuramente strong per voi certo troverete la soluzione ma ci saranno sempre delle situazioni conflittuali dentro di voi anche nei vostri pensieri che vi rendono un po' prigionieri che vi rendono un po' impotenti però tutto questo è dovuto a tanti pensieri negativi tutte queste gabbie mentali, ok? che vi stanno intrappolando vi stanno un po' rendendo instabili mentalmente vedete? questa persona che è veramente sta anche soffrendo sta gridando, sta urlando sta buttando fuori la sua sofferenza anche uno stato d'animo interiore che deve essere comunque sprigionato fuori il lotto di spade è una carta molto molto forte però il fatto che è vicino alla nave che indica comunque un movimento indica anche del dinamismo qua secondo me riuscirete in qualche modo a trovare la chiave di svolta per distruggere questa catena questo non so anche legame vincolante legame tossico tutte quelle tossicità che fanno ahimè da padrone nella vostra vita e secondo me grazie anche a voi grazie al vostro coraggio grazie anche a una forma di introspezione verranno meno ok? però mi raccomando non pensate sempre alla stessa cosa non rimuginate lo so che non è facile però non rimuginate pensate ad altro pensate anche a svagarvi pensate a uscire con altre persone fatevi anche una nuova vita e questa nuova vita alcuni di voi se la rifaranno attraverso proprio un cambio di destinazione cambieranno anche proprio un luogo dove vivere cambieranno anche perché no un lavoro e starete meglio incomincerete a stare meglio ok? abbiamo infatti l'asso di terra che poi è l'asso di denari qua comunque c'è abbondanza c'è successo appuntista soprattutto materiale c'è una promettente iniziativa lavorativa quindi qui alcuni di voi riusciranno a trovare un nuovo lavoro o perché no ci saranno delle nuove proposte in termini commerciali progettuali creativi e qui andrete a firmare dei documenti o dei contratti molto importanti darete proprio una svolta finalmente alla vostra vita ok? quindi sono delle bellissime energie queste quindi questo l'asso l'asso qualche bella novità in un campo soprattutto contrattuale burocratico amministrativo lavorativo economico abbiamo poi il biancospino qua riceverete comunque delle sorprese perché no anche dei premi ok? ci può essere proprio un capovolgimento della vostra vita ma in senso secondo me positivo capovolgerete proprio una relazione un rapporto una dinamica sarete compiaciuti di voi stessi vi divertirete anche c'è proprio un divertimento sarete a contatto anche con altre persone che vi faranno divertire e questo è molto importante questo è il mood giusto anche proprio il fatto di divertirsi di giocare di ridere o meglio anche sorridere alla vita e vedrete che sicuramente ci saranno tante soddisfazioni quindi è un mese secondo me questo per voi di crescita troverete la strada giusta la strada verso il successo verso l'abbondanza e gioirete anche dei risultati di traguardi che raggiungerete giorno dopo giorno ok benissimo cari amici vi aspetto sempre qui sul Tacombe ciao a tutti alla prossima ciao a tutti